Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Colombo è una serie televisiva statunitense del genere giallo poliziesco, andata in onda dal 1968 al 2003. Il protagonista è il tenente Colombo, interpretato da Peter Falk, che ha ricevuto anche un Emmy Award per la sua performance. La serie ha ospitato attori celebri come Leslie Nielsen, Leonard Nimoy, Donald Pleasence e Johnny Cash in ruoli speciali, mentre episodi sono stati diretti da registi famosi come Steven Spielberg, Ben Gazzara, Jonathan Demme e John Cassavetes, quest'ultimo anche interprete di un antagonista. In Italia, la serie ha debuttato il 16 novembre 1974 su TV Coper Capodistria e successivamente è stata trasmessa su Rai 2 a partire dal 6 luglio 1977. In seguito, le nuove stagioni sono state presentate per la prima volta su Rete4. Nel corso dei decenni, è stata riproposta più volte, in particolare sui canali Mediaset. Nel corso dei decenni, è stata riproposta più volte, in particolare sui canali Mediaset. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.